Buongiorno orchidee di Murosolo, oggi un nuovo video sulle orchidee, stavolta volevo parlarvi degli zicopetalum, una pianta fantastica perché ha un profumo buonissimo, è molto rifiorente e veramente questi tipi dei moderni sono molto molto rifiorenti. Sono piante che amano notti fresche, sono orchidee di montagna, la maggior parte vengono in Brasile, Uruguay, Argentina, Bolivia, sono piante piuttosto di montagna perché mi sono notti fresche d'inverno, ombro profondo d'estate, sempre leggermente umici, cioè mai zuppi ma mai lasciare asciugare completamente. Ha una fioritura che dura parecchio ma soprattutto è molto rifiorente, poi ha questo gran buon profumo, i loro colori sono un po' così sull'illa, blu, viola e è tipico delle zicopetalum quando le foglie vecchie le forme diventano vecchie e si riempiono di puntini, ecco adesso va a cercare uno non la trovo, che solitamente sono sempre pieni, vedete, qui inizia a punteggiarsi, inizia a punteggiarsi un po' la pianta, ma solitamente sono pieni di puntini perché appena diventano vecchie, le foglie nuove sono belle, come diventano vecchie diventano così. Questi sono ibridi del zicopetalum Makai, vedete questi qua che sono quali più profumati, questi invece sono ibridi del zicopetalum maxillare, perché il zicopetalum ce ne sono quindicine di specie, quelli più usati nelle ribiditazioni sono soprattutto il maxillare, il makai e l'intermedio che è molto simile al makai e il crinitum, questo è uno che c'è dentro poi il crinitum si vede dal colore più chiaro e più rigato dei fiori, vedete, il crinitum è proprio così, con un profumo buonissimo il crinitum. Ecco il maxillare è profumo un po' meno degli altri, perché ha dei fiori molto più grandi, adesso c'è solo quel colore qua, ma ci sono anche diversi colori, ed è molto bello, molto elegante, profuma anche lui, ma decisamente meno di questi. A differenza dei libidi intermedium e di makai, i libidi maxillare vanno bene anche a temperature un po' più calde, mentre queste qui del makai e dell'intermedium sono proprio piante da fresco fresco. Se ne tenete un posto fresco d'inverno, l'ideale è 10 gradi di notte d'inverno, d'estate è una pianta da ombra, è una pianta da fresco, dato che anche da ombra, tenendone all'ombra, è anche facile avere fresco e avrete delle fioriture, cioè diverse fioriture durante l'anno e questo buon profumo, che è un profumo veramente inebriante, soprattutto di questi qua, il libidi maxillare è un profumo un po' meno. Ecco, quello che volevo, la pianta di questo video, volevo presentarvi la Cattleya Green Genius, è una tipica Cattleya bifogliata autunnale, anche lei è molto profumata, tipica con questo colore qua, bicolore, così sfumata, anche lei è molto elegante e molto profumata. Ok, gigopetrum maxillare, gigopetrum makai e ibridi appunto di gigopetrum, condividete, pubblicizzate, mettete mi piace e tutto il resto. Grazie